Un raccontato biografico in musica, note a margine, lo spettacolo che ha visto sabato sera protagonista il grande compositore Nicola Piovani al Settembre al Borgo 2023, targato Enzo Avitabile. L'evento in una piazza, quella della cattedrale, stracolma all'inverosimile. In tanti non hanno voluto mancare all'appuntamento con il premio Oscar per le musiche della vita è bella. Autore delle più belle colonne sonore, Piovani ha lavorato con alcuni dei maggiori registi del cinema italiano. Sul palco di Caserta Vecchia ha condiviso con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di oltre 40 anni di carriera. Da Federico Fellini a Taviani, da Vincenzo Cerami a Roberto Benigni. Sul palco, al fianco del maestro, Marina Cesari al sax e Marco Loddo al contrabbasso. Un appuntamento davvero imperdibile per il pubblico del festival che quest'anno, ricordiamo, ha celebrato i suoi 51 anni di vita. Grazie a tutti.